84 kg, accogliamo all'angolo blu, lui lavora per la Nutri-Stock, scusate, accogliamo Patrick Avenali, lui è un tatuatore presso la Monkey Business Tattoo, accogliamo l'andorosso Filippo Carfagna! Per questo mezzo potrei istituire la onda, due minuti, arbitra Andrea Bruni Sendo a te, scendi, vaga su un singolo, vai su farlo, vai su farlo, cambia inizia, calma, calma, Sbira il braccio e portisci, torna su male, attenzione al triangolo Pilicco, attenzione alle braccia Pilicco, Pista il progetto è pronto, salino al preocco e portiereuna Primico, qui riteneva la punta! Si amenicava tranquillo e si escherà la parte che farà, Ribpino e si concentrano su noire possa, momento in faccia, attacca e portisce il corpo Mano in faccia, abili fuori l'altra, spingi la testa a cibo, stai di quella lì, pesante, pesante, giù la ginocchio, stai di alto, stai di alto, stai di alto, scusa la gabbia e giro dall'altra guarda, stai giù, ma non faccia, abili fuori l'altra, spingi la testa a cibo, stai di pesante, stai di pesante, 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 Usa la ghiacchia, tira, esatto, 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi, tira avanti, devi afferrare il paletto, stieni, non la distrae, non la distrae, non la distrae, non la distrae! Vince Filippo Gazzana Vince Filippo